Energumano aggredisce la moglie e scatta il divieto di allontanamento. I carabinieri della stazione di Avola hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa nei confronti di un 36enne di origine marocchine già aggravato da precedenti. L'uomo avrebbe più volte minacciato nonché aggredito fisicamente e verbalmente la moglie per futili motivi, costingendola a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Avola. La donna, anch'essa marocchina, ha denunciato l'ennesimo episodio vessatorio da parte del marito ai carabinieri di Avola. Tutte le risultanze investigative sono state riferite alla Procura della Repubblica di Siracusa. L'autorità giudiziaria ha disposto l'emissione di idonee misure cautelari finalizzate ad evitare la reiterazione del reato.